Il Signore darà felicità e buona fortuna ai segni zodiacali nel luglio 2024. Benvenuti amici! Oggi ci immergeremo nell'atmosfera di speranza e di miracoli che luglio 2024 ha in serbo per noi. Sei pronto per l'ondata di felicità e buona fortuna che il Signore ci promette questo mese? In questo video esploriamo le benedizioni che ci attendono. Secondo antiche predizioni e profezie moderne, luglio 2024 sarà un momento di grazia speciale in cui le stelle e le energie celesti si allineeranno a nostro vantaggio. Impareremo come sfruttare al meglio questo periodo favorevole per attirare successo, amore e prosperità nella vostra vita. Ognuno di noi avrà la possibilità di aprire la porta a nuove possibilità e sperimentare un profondo rinnovamento spirituale. Iscriviti al canale, clicca sul campanello per non perdere nemmeno un magico dettaglio del nostro viaggio attraverso le distese della felicità e della buona fortuna. Unisci i tuoi cuori e le tue menti e incontriamo insieme queste benedizioni che il Cielo ha destinato per noi. Preparatevi! La vera magia di luglio 2024 ci aspetta. Ariete L'Ariete energico e proattivo sentirà un impulso speciale questo mese. La grazia del Cielo migliorerà la loro naturale passione per la vita e l'avventura. L'Ariete dovrebbe aspettarsi svolte inaspettate del destino che porteranno significative opportunità di crescita personale e professionale. Forse è a luglio che l'Ariete troverà un nuovo amore o ispirazione per un hobby dimenticato da tempo. Questo è un momento per nuovi inizi e decisioni audaci che daranno all'Ariete non solo buona fortuna, ma anche profonda soddisfazione dalla vita. Toro Noto per il suo duro lavoro e la sua resilienza, il Toro vedrà finalmente i suoi sforzi ripagati nel luglio 2024. Le benedizioni divine arriveranno sotto forma di stabilità finanziaria e opportunità per investimenti significativi. Questo mese porterà al Toro un senso di armonia e soddisfazione per un lavoro ben fatto. Il Toro può anche aspettarsi relazioni più forti con i propri cari, poiché il suo desiderio naturale di prendersi cura degli altri sarà particolarmente apprezzato e riconosciuto. Gemelli Luglio sarà un mese di realizzazione sociale e di espressione creativa per i gemelli. I doni di Dio questo mese includono nuove entusiasmanti connessioni e opportunità di networking che possono aprire nuovi orizzonti per i gemelli. Le benedizioni arriveranno anche sotto forma di ispirazione, che consentirà ai gemelli di trasformare con successo le proprie idee in progetti che cambiano la vita. La loro adattabilità e facilità di comunicazione saranno fondamentali per sfruttare queste opportunità. Cancro I cancri saluteranno luglio con entusiasmo e gioia, poiché Dio ha preparato per loro un periodo di prosperità emotiva e armonia interiore. I cancro amorevoli e premurosi troveranno relazioni profonde e significative che porteranno loro grandi soddisfazioni. Questo mese, i cancri possono anche aspettarsi piacevoli cambiamenti nel comfort della loro casa, magari attraverso lavori di ristrutturazione o traslocando nel luogo dei loro sogni. Per i cancro, questo è il momento di rafforzare i legami familiari e acquisire fiducia nei propri sentimenti e desideri. Leone I leone sentiranno la loro forza e potere naturali nel luglio 2024. Il Signore darà loro buona fortuna negli sforzi di leadership e nei progetti creativi. Questo mese offrirà ai leon molte opportunità di riconoscimento pubblico e crescita professionale. Il loro magnetismo e carisma saranno al culmine, attirando loro contatti e opportunità importanti. I leone dovrebbero approfittare di questo periodo favorevole per attuare piani ambiziosi che avrebbero potuto rimandare prima. Vergine Per i Vergine, luglio 2024 sarà un momento di buona fortuna negli affari e di maggiore efficienza. Il Signore benedirà i Vergine con chiarezza di pensiero e attenzione ai dettagli, che consentiranno loro di ottenere risultati eccezionali nel lavoro e nella vita quotidiana. I Vergine troveranno nuovi modi per migliorare la propria salute e il proprio benessere, magari attraverso una nuova dieta o un nuovo regime di esercizio fisico. Questo mese porterà miglioramenti anche nel settore finanziario, dove i Vergine potranno utilizzare le proprie capacità di pianificazione e gestione per aumentare il proprio capitale. Bilancia A luglio la bilancia troverà la vera felicità nell'armonia e nell'equilibrio delle loro relazioni. Il Signore li benedirà con una capacità unica di vedere e apprezzare la bellezza in tutto ciò che li circonda. Questo mese porterà alla bilancia un successo significativo nel rafforzare le connessioni personali e nello stabilire nuovi contatti. La vita sociale della bilancia fiorirà, portando nuove opportunità di collaborazione e creatività. Possono anche aspettarsi il successo in questioni legali o in campi legati all'arte e alla cultura, dove la loro giustizia naturale e il senso dello stile saranno particolarmente preziosi. Scorpione A luglio, gli scorpioni sentiranno una potente ondata di forza ed energia, che li aiuterà a raggiungere il successo nei loro sforzi più ambiziosi. Le benedizioni di questo mese riveleranno segreti e misteri nascosti agli scorpioni, migliorando la loro intuizione e il desiderio di una profonda comprensione del mondo. La situazione finanziaria degli scorpioni migliorerà notevolmente, grazie ad investimenti riusciti o ad eredità inaspettate. Questo mese promette anche relazioni romantiche appassionate e sentite che porteranno agli scorpioni non solo piacere, ma anche profonda soddisfazione spirituale. Sagittario I sagittari vivranno una vera avventura dello spirito nel luglio 2024. Benedetti dal loro protettore, troveranno la felicità nei viaggi e nell'istruzione, ampliando i propri orizzonti e arricchendo il proprio mondo interiore. Questa volta darà al sagittario nuova conoscenza e saggezza che lo aiuteranno a realizzare i loro vecchi sogni. Il loro ottimismo e il desiderio di condividere con gli altri attireranno magneticamente a sé persone provenienti da diverse parti del mondo, espandendo le loro reti sociali e professionali. I sagittari possono anche aspettarsi successo in pubblicazioni, iniziative educative o progetti culturali che porteranno loro riconoscimento e soddisfazione. Capricorno Per i Capricorno, noti per la loro tenacia e determinazione, luglio sarà un mese di grandi traguardi. Il Signore darà loro non solo il successo nella carriera, ma anche un successo significativo negli sforzi finanziari. Questo mese offrirà opportunità ai Capricorno di crescere ed espandere i propri orizzonti professionali e le loro capacità di leadership saranno particolarmente richieste e apprezzate. I Capricorno possono anche aspettarsi importanti cambiamenti nella loro vita personale che porteranno profonda soddisfazione e nuovo significato alle loro attività quotidiane. Acquario Gli Acquario saluteranno luglio 2024 con entusiasmo poiché questo è il mese in cui sperimenteranno un potente flusso di energia creativa. Il Signore li benedirà con nuove idee e ispirazioni che potranno portare a scoperte rivoluzionarie o all'avvio di progetti importanti. Gli Acquari dovranno trovare nuovi amici e persone che la pensano allo stesso modo, il che renderà questo mese particolarmente significativo in termini di connessioni sociali e comprensione reciproca. Saranno anche in grado di influenzare il mondo che li circonda diffondendo le loro idee e punti di vista progressisti. Pesci I pesci sentiranno uno speciale rinnovamento spirituale ed emotivo nel luglio 2024. Questo mese porterà loro una profonda armonia interiore e pace, che consentirà loro di comprendere meglio i loro desideri e bisogni. Il Signore darà ai pesci un sentimento di unità con l'universo, che rafforzerà la loro intuizione e capacità di entrare in empatia. Questo mese sarà favorevole anche all'autorealizzazione artistica e creativa dei pesci, permettendo loro di rivelare al meglio i propri talenti. I rapporti con i propri cari miglioreranno, portando gioia e felicità nelle loro vite. Grazie Grazie Grazie